Il rilancio culturale di Terabo Capoluogo lo si potrà ottenere solo attraverso il recupero del Teatro Romano, progetto già approvato dal Consiglio Comunale ma che è in attesa dell'appalto lavori. Lo sconcerto più grande per chi arriva in città è vedere il più importante reperto archeologico abruzzese circondato da un degrado inaccettabile, in pieno centro storico. Lo sguardo va subito al palazzo adiacente Piazzetta Paris, pericolante da anni, al mercato coperto di Piazza Verdi, decadente, sporco e al quotidiano delirio della sosta selvaggia. Interviene l'Associazione Culturale Teramo Nostra. Recuperare il Teatro Romano non basterà se viviamo in un quartiere completamente degradato nel cuore della città. Intanto iniziamo perché anche questa storia del Teatro Romano che ancora si perde tanto tempo perché ci sono sempre indoppi burocratici. Questo è un lavoro, intanto abbattiamo subito questi due caseggiati abusivi perché sono abusivi costruiti subito sui resti romani e dopo dobbiamo mettere in sicurezza, in bellezza tutta questa parte di contorno. Qui siamo nel cuore della nostra città, non è giusto che ci siano ancora dei palazzi che stanno per crollare, che non sono stati messi in sicurezza, che non sono stati per miserre e affari. Qui si mantiene in ostaggio tutta la zona perché è una zona, parliamo del cuore della città, c'è anche il mercato coperto che non è stato, cioè nessuno, qui si parla troppo e si agisce poco. Sul mercato coperto che posizione avete come Teramo Nostra? Uno se va in giro, io sono uscito a Firenze, hanno fatto locali multietti, c'è di tutto dentro al mercato perché oramai il contadino che viene dal Pennino a piedi fino a qua a vendere le uova e le galline non c'è più. Tra l'altro anche come sanità non è più consentito. Quando abbatteranno i due palazzi abusivi secondo lei? Speriamo entro l'anno perché già troviamo con questa amministrazione, già siamo entrati nel terzo anno, non vorremmo che chi ha ostacolato fino a oggi ancora stia, naturalmente che se ha ostacolato fino a oggi per 25 anni si guiderà ad ostacolare.